È un copione già visto cinque anni fa, quello di Piancamuno, in occasione delle amministrative 2021 dove si presentano due liste civiche, quella del sindaco uscente Giorgio Ramazzini sfidato da Marcello Santicoli. Orizzonte Piancamuno è la lista del sindaco uscente che si pone in linea di continuità con quanto fatto nei cinque anni precedenti ma che vuole raggiungere anche nuovi obiettivi. Mettiamo a disposizione di tutta la comunità, dei più deboli, degli anziani e dei giovani così che possano vedere un futuro più sereno e con maggior certezza. Lo facciamo coinvolgendo realtà provenienti dal mondo civico e dalle associazioni perché crediamo che la collaborazione e il gioco di squadra siano la forza motrice per una buona amministrazione. Sarà come sempre sindaco di tutti auspicando che tutti possano contribuire a migliorare e valorizzare il nostro bellissimo paese. In lista con Giorgio Ramazzini, Emanuele Angelo Bertoli, Samuele Bertoli, Erika Bianchi, Gianpietro Bianchi, Regi Scotti, Sabrina Fanchini, Sara Gratti, Marco Marinoni, Renata Muracchelli, Elena Piva, Mattia Toini, Priscilla Zigliani. Lo sfidante di Ramazzini è il capogruppo dell'attuale minoranza con la lista Piancamuno 4.0, un nuovo inizio. Piancamuno ha bisogno di un'amministrazione più attenta ai bisogni della gente, più attenta ai suoi cittadini, alla cura del paese, alla pulizia delle strade, alla riqualificazione di sottoservizi abbandonati da anni. Ha bisogno di incentrare le sue azioni nei prossimi cinque anni, non solo sulle attività di normale amministrazione, ma di avere un sogno. In lista con Marcello Santicoli, Mario Santino Fanchini, Dino Francesco Dogali, Fabiana Tignonsini, Francesca Rigoni, Fabio Zigliani, Stefano Cristinelli, Giulia Gregori, Chiara Pelucchetti, Andrea Barbieri, Daniel Bianchi, Federica Pei, Silvia Galiani.